Il REI prevede una erogazione monetaria condizionata al rispetto di obblighi inseriti in un progetto predisposto dai servizi sociali. I requisiti economici sono, intanto il REI è condizionato alla presentazione di una dichiarazione ai fini ISEE. L'ISEE non può essere superiore ai 6.000 Euro e l'ISRE, che è l'indicatore della situazione reddituale del nucleo, non deve essere superiore ai 3.000 Euro. Abbiamo ricevuto oltre 1.800 domande e sono state riconosciute intorno ai 500-540 domande REI. Forse è possibile utilizzarle nei circuiti, quindi si possono fare dei prelievi fino a un massimo di 240 Euro, nei circuiti poste, banche con spese di prelievo che variano un po' dalle poste alle banche in misura differente. Poi possono essere usate nei supermercati per il pagamento delle bollette, negli uffici postali e per l'acquisto anche di farmaci. Grazie.